Volete trasformare i soldi? State a te, vi segno la tecnica. Però non lo fate. Io ve lo insegno perché voi dopo... Perché voi dopo rischiate, insomma, per non cascare dalla trappola. Poi prendete 50 euro. Se mi dai, questa è simpatica, una fornice, che cosa fate? Tagliate un filetto. Guardate, ve lo mettete qua. Guardate dove sta. Prendete questa e la cambiate. Ok? Poi le dà un'altra, tagliate 2 centimetri e li attaccare al centimetro. E questo è 2 centimetri. Poi le prendete un'altra, tagliate 4 centimetri e li attaccarei 3 centimetri. Perché lo abbiamo, lo voglio che sta qui, da 4, 7, 8, cresce. Voi con 20 di queste ne avete un'altra. Semplicemente ne abbiamo un filetto una volta. Quando vedete le cose incolate non ci sono rotte. C'è gente come Mubini che sega e...